Presidente Sebastiani, ieri un pareggio contro il Siena, è soddisfatto di queste prime 11 partite giocate dal Pescara? Si aspettava questo distacco oppure immaginavo una classifica diversa? Sicuramente abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, però ci stanno anche le altre squadre. Abbiamo giocato contro una delle squadre che come noi cercano di salire e quindi siamo stati avvantaggiati dal fatto che loro sono rimasti in 10 ma non siamo riusciti a sfruttare questa superiorità. Però ci sta perché comunque gioca a Mollie, abbiamo subito gol appena sono rimasti in 10, siamo stati bravi a recuperarla e poi nel secondo tempo abbiamo giocato praticamente una porta sola ma non siamo riusciti a concretizzare. Rumors hanno sollevato l'ipotesi di un allontanamento di Auteri, è in discussione la posizione del mister oppure no? Ma non esiste proprio, il fatto stesso che stiamo qua insieme oggi lo dimostra, ma non esiste proprio, non è mai stato in discussione, il mister ha preso una squadra completamente nuova, la sta plasmando, i ragazzi adesso abbiamo avuto anche moltissime defezioni negli ultimi tempi per Covid, per infortuni vari, noi siamo tranquilli, abbiamo un percorso da fare, la squadra è praticamente nuova, per nove undicesimi è nuova e quindi ci vuole del tempo, il campionato di Serie C come tutti gli altri campionati è molto lungo, i valori, quello che mi fa stare tranquillo è che noi non abbiamo incontrato finora nessuna squadra che ci ha messo sotto a dire sono più forti di noi, per cui abbiamo tutto il tempo per recuperare e fare un buon campionato. No, no, ma questa è una squadra che abbiamo costruito insieme, purtroppo come dicevo prima ci sono state alcune defezioni che non hanno permesso al mister di giocare diverse partite con una formazione fatta e quindi ci sarà tempo, ripeto, per mettere a posto tutti e recuperare.